Il bullismo, il cyberbullismo soprattutto, è un fenomeno in crescita. Da tempo si sente l'esigenza nelle scuole di momenti di formazione per studenti ma anche per genitori e docenti. Sì, è un fenomeno in crescita aiutato anche da quelle che sono le nuove tecnologie, definite anche psicotecnologie, proprio perché allargano la possibilità della mente di toccare poi ogni sfera del reale. Il reale che sta diventando, con la realtà virtuale, poi un reale di immagini, quindi un reale immaginario. Il percorso che in qualche modo si sente di seguire per poter fare una prevenzione sul reato, su questo fenomeno dilagante, è senza dubbio una prevenzione di tipo culturale. Quindi l'attività all'interno delle scuole di educazione e di formazione ha la legalità, un concetto che molto spesso viene messo da parte ma che penso sia il baricentro di tante problematiche che oggi stiamo registrando. Una vicinanza, quindi una legittimazione della legalità supportata da quello che è un testo costituzionale attuale, poco conosciuto sia dai genitori che dai ragazzi. Anzi, dirò di più, sembra che l'attività nelle scuole stia dando come risultato quello che parecchi studiosi di ambito psicologico già portano avanti da parecchio tempo, che è la necessità di attuare una formazione su valori, una formazione sull'educazione dei genitori, che poi sono loro che devono trasmettere ai bambini, che in realtà, le dico, sono proprio come la Creta. Quindi sono persone che, figure che possono registrare il valore etico, possono in qualche modo rappresentarsi quali sono i valori richiamati dalla Costituzione, ma necessitano di quello che è un sostegno, una guida e una promozione. Grazie.